Gian Battista Perasso, detto il balì, la 1746 mandava a fanculo gli austriaci, gli hanno dedicato una via di un metro quadro piena di motorini, c'è rimasta questa statua e da qua partirà il grande movimento di liberazione nazionale, il Movimento 5 Stelle nazionale, il Movimento ha il suo programma, il programma 5 Stelle, la Carta di Firenze, potremo noi discutere di tutto, potremo anche riprendere il programma, vagliarlo, cambiarlo col vostro contributo, abbiamo il programma sull'energia, sul trasporto, sulla mobilità, sul wifi libero e gratuito, sull'accesso alla rete, abbiamo queste grandi cose sui rifiuti, sulla raccolta dei rifiuti differenziata, porta a porta, abbiamo un sacco di cose da proporre, abbiamo le idee del futuro, ci stanno copiando tutti, potremmo decidere noi se fare le centrali nucleari e non degli zombie che sono lì a decidere sulla nostra qualità della vita, quella dei nostri figli. La massa non è più stupida, la massa diventa intelligente, si autogoverna, ci saranno centinaia, decine di migliaia di ingegneri, decine di migliaia di avvocati che proporranno, è già in wiki, quindi lo potete discutere, potete fare proposte, per la prima volta nasce un movimento dove ognuno vale uno, un movimento che non ha bisogno di sovenzioni, di partiti, non è un partito, abbiamo fatto un non statuto perché è la prima volta che ci si occupa di una cosa così, un non statuto, il quale dice non statuto che chiunque può iscriversi se ha la cittadinanza italiana, può iscriversi se non è iscritto a un altro movimento o partito politico, può iscriversi, noi daremo una password e potrà votare su tutte le cose e qualsiasi persona potrà votare sulle cose della sua regione, del suo comune e della sua nazione, non è mai stata fatta una cosa così, si vota su qualsiasi cosa, non ha sede in questo movimento, non ha partiti, non ha referenti politici, né provinciali, né regionali, né nazionali, ognuno, ripeto, vale uno, non ci sarà neanche il tesoriere di questo movimento perché non c'è cassa, non c'è cassa, quindi ogni operazione che faremo sarà sovvenzionata l'operazione stessa come abbiamo fatto con la raccolta fondi per fare il Parlamento pulito oppure per dare i soldi a Ruda Bianzino, l'abbiamo fatta direttamente, è la prima volta in Europa che succede una cosa così, che ognuno vale uno, ci conteremo, sapremo chi siamo, nome e cognome, se saremo molti potremo votare sulle liste comunali, sulle liste regionali, si presenta una lista, i referenti del movimento saranno le liste civiche e i nostri meet up che sono in giro, che sono 100 mila ragazzi in 300 città d'Italia che lavorano sul territorio, siamo per la prima volta un movimento veramente di liberazione e allora becco perché parto da lui, lui ha mandato affanculo gli austriaci, noi mandiamo affanculo i partiti, non ci saranno più né sedi, non ci saranno più né provinciali, regionali, quelle sedi che vedi con quattro vecchi dentro, con le seggiole, con il referente di turno che parla, non ci sarà più niente, questo è un movimento per il futuro che farà tremare tutti, italiani! No, 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 no!